Dopo la missione della regione a Dubai nell'ambito del programma di Abruzzo sostenibile nell'agri-food all'Expo 2020, sono stati presentati risultati, risultati eccellenti, dati incontrovertibili e scientifici che vengono fuori in maniera analitica dalla piattaforma telematica messa in campo. La regione ha promosso la missione con il suo braccio operativo e soggetto attuatore, l'Arap. In questa vetrina mondiale hanno sfilato le eccellenze enogastronomiche prodotte da imprese abruzzesi, oltre 120 prodotti e 22 imprese, ma l'Abruzzo si è presentato insieme come sistema. La missione è stata presentata dal vicepresidente dell'Aggiunta regionale, assessore all'agricoltura Emanuele Imprudente, dal direttore Arap Antonio Morgante, che ha rappresentato il presidente Savini, e dal capo della delegazione a Dubai, Romeo Ciammaichella. I risultati sono eccezionali, da presto che zero abbiamo avuto una dimostrazione, i grafici dimostrano in maniera chiara che c'è un'inversione di tendenza. Per la prima volta l'Abruzzo è stato presente, per la prima volta l'Abruzzo è andato al centro di queste dinamiche di conoscenze del proprio territorio, della propria storia, della propria cultura e dei propri prodotti, quell'unicum su cui stiamo lavorando proprio per l'internazionalizzazione delle nostre aziende e dell'Abruzzo. L'immagine dell'Abruzzo e l'immagine dei nostri prodotti è concretamente cresciuta, e oggi ne daremo dimostrazioni con le varie analisi che abbiamo fatto sulle piattaforme telematiche, e quindi credo che Arap con la regione Abruzzo questa volta abbiano fatto un buon servizio per il sistema Abruzzo nel suo complesso. A sviscerare i dati del monitoraggio è il direttore Arap Antonio Morgante, che ha presentato i dati della piattaforma, il Brand Monitoring Report. Gli strumenti tecnici innovativi sono stati approntati prima, come la piattaforma, arrivata a novembre, e che è ancora operativa. Ci sono stati nel corso della missione contratti conclusi e contratti che si stanno per concludere. Sono stati sollecitati interessi anche di paesi molto lontani da Dubai. In tempo reale la piattaforma ha detto che alcune parole chiave relative all'agri-food e al marchio Abruzzo hanno fatto parlare di sé, attingendo ai web e ai social. Dal 14 di gennaio fino al 23 febbraio, come periodo di riferimento, c'è stato un primo picco nel periodo della missione istituzionale, poi per agri-food. Le mention, cioè quante volte la regione Abruzzo è stata nominata, sono state tantissime. C'è stata una moltiplicazione esponenziale, soprattutto nel web, da riviste specializzate. Gelateria, falconeria, anche questi sono stati temi di interessi. I dati dicono che anche la maggioranza del sentiment è positivo. Si è parlato bene, insomma, dell'Abruzzo. Lo stesso monitoraggio è stato fatto per la missione, con dati importanti e risultati pressoché simili.